Il controordine è arrivato nella serata di ieri. I alunni del liceo Cotugno non torneranno oggi in aula come previsto dopo la chiusura dello stabile di Via Da Vinci per i controlli statici che si sono svolti per una decina di giorni sui vari corpi dell'edificio. Ad annunciarlo sono stati il sindaco del capoluogo Massimo Cialente ed il presidente della provincia dell'Aquila Antonio De Crescentis in relazione allo stato in cui versa l'edificio e alle polemiche innescate in seguito al terremoto del 18 gennaio scorso. Da domani dunque le lezioni riprenderanno ma in doppi turni a partire dalle 14.30 presso la sede dell'ITIS nella zona di Acquasanta. Non si sa ancora per quanto tempo i 1.200 studenti e studentesse del liceo saranno costretti a frequentare la scuola nelle ore pomeridiane ma a quanto si apprende la situazione non durerà meno di qualche settimana. La decisione è scaturita perché è necessario analizzare e approfondire i rilievi statici effettuati nei giorni scorsi in seguito alle verifiche di prova statiche volte a certificare la vulnerabilità dell'edificio a Pettino. Le prove del Cotugno sono andate bene, ha evidenziato Cialente, ma bisogna approfondire i dati raccolti e farli esaminare da tecnici specializzati in base a protocolli standardizzati. Contemporaneamente non possiamo far perdere altri giorni di scuola ai ragazzi, perciò andranno all'ITIS, un edificio sicuro. Le lezioni andranno avanti fino alle ore 19-19.30 e verranno garantite delle corse dei bus dedicate.